C'è un dovere vaccinare, come tutti i vaccini. Se i vaccini precedenti hanno debellato le vecchie malattie, che non si vedono più come la grave poliomelite, così anche la malattia da coronavirus scomparirà se tutti si vaccineranno. Il vaccino viene da te. Il vaccino viene da. Il vaccino viene da. Il vaccino viene da te. Il vaccino viene da te. Grazie a tutti.